Manu, come stai anzitutto? Come ti senti qua nello stadio di San Siro? Ti senti per qualche squadra? È sempre bello qua, insomma, non siamo sulla neve ma siamo tra i calciatori quindi è sempre un bel evento e vediamo cosa ci aspetta ancora in questa giornata. Chi tiffi tu? Io al Milan, soprattutto a Gattuso perché ha un carattere un po' più selvaggio e quindi mi piace. Ma l'hai già conosciuto? Sì, sì. Io lo conosco lui, non so se... Beh, dai, è presente. Insomma, magari dopo ci abbiamo l'occasione. E invece del tuo inizio stagione cosa ci dici di Sölden? Ma è già dietro le mie spalle, sicuramente non lo annullo, si prende quello che si è sbagliato e si continua quindi ho avuto un piccolo problema di schiena e mi mancavano un po' di giorni per recuperare ancora meglio adesso sto già un pochino meglio, diciamo, per poi fare bene lo Salomín a Levi. E infatti lo Salom, mi avevi detto che eri meglio in Salomín che in Gigante, quindi? Sì, perché mi fa anche meno male la schiena, quindi per me faccio meno fatica. Bene. Obiettivo a Levi? Tanto far meglio il piano, quindi poi il muro mi sa che me la cavo. Esatto. Audi, quanti anni l'hai già avuta? Questa bianca ti piace? Io ho iniziato ad avere la macchina da subito, quindi ancora iniziando dall'Alfa Romeo e poi tutti gli anni l'Audi, insomma. Vuol dire che sei costante, che sei sempre costante. Sì, non so, sì. Posso aggiungere questa. Grazie. Bocca al lupo. Grazie.